Ciao, oggi sono a casa di Elio e ti racconterò come funziona un impianto in pompa di calore. Infatti molti hanno pensato di passare alla pompa di calore ma non hanno idea di che cosa significa avere un impianto in pompa di calore a casa sua. Eccoci qui, siamo a casa di Elio, ha ristruttato casa, ha fatto il cappotto, ha fatto l'impianto a pavimento passando da radiatori a impianto a pavimento, ha fatto un impianto di ventilazione meccanica controllata e ovviamente anche staccato il contatore del gas con una pompa di calore per riscaldamento e anche acqua calda sanitaria e raffrescamento. Non sarà questo di cui parlerò oggi perché? Perché io sono specializzato nelle pompe di calore quindi non nell'impiantistica pura. Allora adesso ti porto in centrale termica per mostrarti i vari componenti che compongono l'impianto in pompa di calore. Ecco allora, quella alle mie spalle è la pompa di calore, l'unità esterna, quindi la macchina che va posizionata tipicamente in giardino e che preleva l'energia dall'aria esterna. Infatti è il cuore di tutto il sistema, quindi considera una pompa di calore, quindi devi considerare lo spazio per avere un'unità esterna da mettere tipicamente in giardino. Adesso invece vediamo il cuore dall'altra parte dell'impianto. Eccoci qui in sala termica, qui abbiamo il puff, quindi l'accumulo di acqua tecnica, quella che gira nell'impianto. Acqua che gira nell'impianto a pavimento per fare sia caldo che freddo e acqua che gira anche nella batteria della ventilazione meccanica perché abbiamo una ventilazione meccanica con una batteria anche di umidificazione e post raffreddamento per poter garantire anche una qualità dell'aria all'interno dell'edificio molto importante. Abbiamo poi il kit di sicurezza, quindi la valvola di sicurezza, molto importante ovviamente per far scaricare qualora la pressione dell'impianto salga troppo, permette di scaricare la pressione dell'impianto. E qui invece abbiamo il vaso di espansione. Come vedi, piccolo dettaglio, ma ha la testa verso il basso, cioè sembra installato alla rovescia ma ha il corretto utilizzo, la corretta installazione del vaso di espansione. Perché? Perché qui abbiamo una valvola, cioè una membrana in gomma che se viene investita d'acqua molto calda, in poco tempo si rovina e poi si rompe il vaso. Quindi mettendolo in questa condizione il vaso dura molto di più nel tempo. Passiamo poi alla parte di collegamento idraulico. Qui sembrava un po' più complicato, ma di fatto cosa è successo? Abbiamo fatto un'inversione del ciclo tra sopra e sotto. Infatti vedi che ci sono valvole a due vie che permettono d'estate di mandare l'acqua fredda direttamente nella parte bassa e poi viene ripresa dalla pompa di calore. D'inverno invece l'acqua calda viene mandata sopra e ripresa sotto. Quindi questo giro permette di invertire il puffer tra sopra e sotto con tre semplici valvole. Abbiamo poi dei componenti ovviamente fondamentali. Abbiamo qui i circolatori. Questo che permette di far girare l'acqua tra la pompa di calore esterna e l'accumulo tecnico e questo che permette di far girare l'acqua tra la pompa di calore e il bollitore per l'acqua calda sanitaria. Qui poi abbiamo un defangatore sul ritorno e un filtro AY. Anche questi componenti fondamentali per tenere pulito l'impianto. Senza questi componenti lo sporco andrebbe nella pompa di calore e la macchina andrebbe in blocco, magari in pieno inverno. Abbiamo appena visto tutta la parte di produzione del calore quindi di generazione del calore, pompa di calore, puffere di acqua tecnica. Qui invece siamo nella parte di distribuzione del calore. Cioè prendiamo il calore prodotto dalla pompa di calore che può essere acqua calda d'inverno e acqua fredda d'estate per portarlo nell'impianto in casa, quindi portarlo nelle varie stanze. Cosa abbiamo? Abbiamo un separatore idraulico ma soprattutto abbiamo un collettore che permette poi di collegare le varie pompe che fanno girare l'acqua nelle varie zone dell'impianto. Qui abbiamo tre valvole miscelatrici perché come abbiamo detto prima abbiamo un impianto a pavimento e una batteria diretta quindi una batteria che ha bisogno di prendere l'acqua più fredda possibile d'estate e più calda possibile d'inverno senza ovviamente valvole miscelatrici. Cosa sono le valvole miscelatrici? Sono delle valvole che permettono di mandare l'acqua all'impianto a temperatura diversa rispetto a quella che c'è nell'accumulo tecnico. Infatti d'inverno posso pensare di avere 50 gradi all'interno del puffer e poi qui miscelo a 35, 32, 30 a seconda ovviamente dell'abitazione e dell'edificio e usare meno acqua possibile del puffer. Il tutto per ovviamente avere il massimo comfort all'interno della nostra casa. Queste valvole miscelatrici sono comandate dalla pompa di calore in modo che possiamo avere il controllo dell'intero impianto e non che tutto venga lasciato lì a se stesso, abbandonato a se stesso senza che nessuno lo possa controllare. Per quanto poco sembra una banalità il fatto della distribuzione però se tu hai una pompa di calore ottima e hai fatto la parte di degenerazione in maniera perfetta, devi garantire anche che il calore venga distribuito in maniera perfetta all'interno dell'edificio. Infatti potrai avere mezza dell'impianto estremamente funzionante e poi l'acqua non gira all'interno dell'impianto a pavimento e quindi non ho comfort all'interno dell'abitazione. Ma adesso ti faccio sentire le parole del cliente, nonché anche installatore, sul perché ha deciso di trasformare la sua casa in 100% elettrica. Bene, eccoci qui con Elio. Allora, Elio, perché hai avuto questa pazza idea di togliere il contatore del gas e passare a una pompa di calore in qualità di cliente? Nel 2014 ho deciso di ristrutturare casa e quindi già avevo una mezza idea di cosa volevo fare ma per motivi economici insomma non potevo fare tutto subito. Tant'è che l'anno scorso ho installato l'impianto fotovoltaico da 5 kilowatt e 100 e quest'anno ho installato la pompa di calore. La mia intenzione è quella di rendermi indipendente dal gas, insomma. Chiaramente si consuma energia elettrica ma avendo che il fotovoltaico sicuramente un vantaggio ce l'ho e quindi questo è l'obiettivo. E per quanto mi riguarda l'obiettivo è raggiunto. Consiglio ai miei amici installatori di passare le pompe di calore ma non sono tutte uguali. Questo ne sono convinto perché prima di installare questa pompa di calore ne ho viste. Questa è quella che mi dava più garanzie anche con l'aiuto di Samuere. Notariamente però il calzolaio va via con le scarpe rotte e quindi tu che sei un operatore del settore cioè sei un installatore idraulico perché l'hai installata a casa tua? Oltre ovviamente a staccarti dal gas e per una questione proprio di principio. L'obiettivo principale oltre ad essere soddisfatto a casa mia è quello di soddisfare anche il cliente viene qua a vedere l'impianto e praticamente sicuramente resterà soddisfatto perché vede e tocca con mano la realtà insomma. Certo, qual è il miglior testimone se non proprio te stesso nel testimoniare che le cose funzionano anche senza il contatto del gas. Grazie Elio, grazie della fiducia. Grazie a voi. Ti ringrazio e come sempre se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in atteprima tutti i miei prossimi video e ci vediamo ovviamente alla prossima storia. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!